Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la Voce delle Istituzioni. Quest'oggi parliamo di Calalzo perché abbiamo come ospite in studio il Sindaco Luca De Carlo. Buonasera, buonasera a tutti. Sindaco Luca De Carlo che sta finendo il suo terzo mandato. Sì, sì, ormai sono ancora un annetto e poi dopo 15 anni, sono 14, prossimo anno sono 15 anni e 3 mandati, finisce la mia esperienza amministrativa. Sono contento degli anni ma anche contento di poter lasciare a qualcun altro con nuovi stimoli, con nuove possibilità, con nuove idee, possibilità di amministrare questo comune di cui io sono ancora e resto follemente innamorato, ma proprio perché sono follemente innamorato sono anche conscio che dopo tre mandati sia non solo previsto dalla legge ma anche giusto lasciare il passo a chi ha qualche stimolo in più o può dedicarsi anche solo a questo territorio avendo anche qualche impegno in più che mi assorbe. Però insomma stiamo all'interno della squadra verificando se c'è qualcuno che ha voglia di proseguire il nostro mandato. Mi pare di aver capito che i ragazzi hanno voglia di continuare, quindi credo che sia una squadra che in questi anni ha lavorato bene e che ha anche in qualche maniera fatto tanta 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 esperienza da mettere a disposizione dei cittadini. Tra l'altro poi io sono anche un po' su questo maniacale, quindi mi rendo conto subito se qualcuno lavora per se stesso o lavora per gli altri, quindi mi sento di dire con assoluta certezza che il gruppo che ho sempre avuto ma anche quelli degli anni scorsi sono persone che si sono messe a disposizione proprio per l'amore che avevano per questo territorio e quindi oggi credo che il Comune sia in buone mani. E nel frattempo si prosegue con delle progettualità che erano già aperte o con la sistemazione magari di qualche problema che si è verificato? Sì, sì, abbiamo continuato, anzi anche grazie sia al lavoro del Vice Sindaco Ilenia sia al lavoro di Umberto Fero sempre puntuali sul territorio. Anche in momenti di ristrettezze non ci siamo mai pianti addosso, anzi riusciremo a sistemare dopo Vaia tutta la Valvedesana che ha un lavoro imponente, un milione e otto e quindi alla fine siamo riusciti a prendere tutte le risorse e quindi per step e per stralci a finire, a abbellire e a renderla addirittura migliore quell'area, non solo ripristinarla, quindi quella che va dal bar alpino verso i rifugi chigiato, poi quindi anche importanza strategica rispetto al turismo. Ma non solo, abbiamo fatto tante piccole manutenzioni sul territorio, l'ultimo di questi giorni è il piazzale di Rizios, piuttosto che la strada che taglia fuoco da Rizios a Grea, abbiamo e partirà il progetto per la cittadella dello sport dove rifaremo sia il sintetico, il campo sportivo, ma anche le tribune, il bar, gli spogliatoi. Noi cercheremo di prendere anche con il bando sport e periferie le risorse per mettere a posto la zona dei tennis che tra l'altro è un punto importante sulla ciclabilia sia per il noleggio delle biciclette, anche grazie a un'associazione di un privato che in questi anni ci ha dato tantissimo una mano e che ha messo a disposizione il suo tempo per gli altri e quindi abbiamo continuato a lavorare su tante piccole cose che a volte paiono anche invisibili, ma che in realtà fanno la differenza tra l'essere e non essere. Il tutto essendo passati da quattro dipendenti esterni e operai a uno, perché noi purtroppo abbiamo oggi una situazione di difficoltà, non riusciamo a riprire nemmeno manovalanza, facciamo i concorsi e la gente non trova più attrattivo lavorare nel pubblico e su questo dovremmo anche iniziare un po' dopo anni di vulgata secondo il quale nei comuni si lavorava poco o male, adesso nel comune non viene più a lavorare nessuno, quindi evidentemente non era tutto vero prima e adesso bisogna risolvere anche questo problema, perché se noi non abbiamo persone che prendono cura del nostro territorio non possiamo sempre pensare che lo facciano i volontari, anche se lo fanno ci fanno un favore, perché quando io vedo gente che ti segnala che c'è l'erba alta in un posto, il tempo che uno la segnala, fa il post su Facebook, la scrive, la invia al sindaco, la racconta dieci volte al bar l'ha già segata, quindi io ho sempre fatto così anche prima e continuo a farlo anche adesso, però capisco che insomma da chi paga le tasse pretende anche dei lavori fatti dal comune, oggi siamo in oggettivo difficoltà, abbiamo la fortuna che c'è una persona che ci dà una mano seppure in condizioni un po' di difficoltà e qui va tutto il mio grande ringraziamento, però oggi abbiamo un dipendente e per trovare qualcuno che guidi il pulmino all'inizio della prossima stagione stiamo facendo i salti mortali, un po' abbiamo utilizzato comuni vicini che ci hanno prestato dei dipendenti per quell'ora, ringrazio tra l'altro il comune di Vigo che per due volte si è prestato a darci una mano, però non riusciamo a risolvere questo problema, quindi una forte considerazione su questo dovremmo farcela non solo a livello comunale ma anche a livello nazionale e parlamentare, credo che questo sia una delle priorità. Ecco per quanto riguarda i trasporti scolastici, il pulmino è un tema sensibile in molti comuni, addirittura c'è stato il caso, non ecco, medico del sindaco che guidava il pulmino. Sì, grandissimo Ivano Mattea, che anche lui sapendo, quelli sono gli approcci degli amministratori figli, cioè quelli che c'è un problema, lo denunciano, vedono soluzioni, le cercano, poi quando non ce la fanno lo fanno, perché pur di non far mancare il servizio si interviene. Sull'investi scuola varrebbe lo stesso concetto, sono anni che sappiamo che i fondi di confine lo possono finanziare solo in maniera saltuaria, se non abbiamo trovato in tutti questi anni un'alternativa vuol dire che non ci siamo impegnati abbastanza, anche perché forse le alternative c'erano, mi auguro che vengano trovate adesso anche con delle proposte che faremo e che metteremo sul tavolo, però viva e Dio se non si può fare è evidente che i comuni, il nostro per esempio, come ha fatto la comunità montana, interverranno, interverranno con risorse proprie, perché noi siamo i più lontani o tra i più lontani delle grandi scuole, c'è stato un concentramento delle scuole soprattutto nel comune capoluogo, che può essere anche positivo nel senso che si creano poli scolastici importanti, però è altrettanto vero che esistono realtà come la nostra, nel quale gli abbonamenti che tra l'altro quest'anno aumenterebbero del 18%, verrebbero a costare 600-700 euro, per chi ha due figli cominciano a diventare un millequato, diventa problematico, noi interverremo su questo e cercheremo di riportare se la provincia non interviene in un'altra maniera allo stesso livello dell'anno scorso con risorse comunali, è uno sforzo grande, lo sappiamo, però credo che sia una delle prime, sia una delle priorità assolute quella di far riuscire a permanere qua i nostri giovani, questa è una delle misure che consentono di tradurre le parole in fatti concreti, noi lo facciamo da sempre, lo facciamo anche con i centri estivi, quest'anno abbiamo aggiunto ai 1800 euro del contributo nazionale altri 8 mila euro e riusciamo a 45 famiglie, più o meno una cinquantina di famiglie, ad intervenire sul costo di doposcuola sapendo che per le mamme e per i papà il doposcuola estivo, il camp sostanzialmente tutto il giorno, non solo doposcuola ma solo dalla mattina alla sera, costituisce veramente un aiuto importante perché non tutti hanno i nonni, non tutti hanno la possibilità di accudire i figli e saperli in un posto tranquillo e dove fanno anche tanta animazione è un bene, quindi noi siamo riusciti a stanziare queste 8 mila risorse che serviranno a pagare metà dei costi più o meno dei centri scuola, sono 35 euro per massimo 6 settimane, 210 euro di contributo, credo che siano un contributo importante soprattutto se pensi che sono 400 euro il totale più o meno di quelle settimane, quindi circa la metà la paga il comune e la paga sempre con la consapevolezza che se tu riesci a far permanere qui le famiglie con i figli, tu dai un futuro a questo territorio. Noi il nostro piccolo lo facciamo. Ecco diciamo che la permanenza delle famiglie nel territorio aiuta anche a rendere sostenibili e mantenibili anche altri servizi che magari non c'entrano direttamente con i figli, però... Anche perché poi la tentazione di qualcuno di dire beh ma non c'è nessuno, cosa manteniamo questo servizio a fare se non c'è nessuno è il gatto che si manda la coda, è evidente che se si toglie un servizio non diventa appetibile attraente anche per chi muore e vorrebbe venire, quindi noi cerchiamo di rimanere abbarbicati in questi luoghi anche sapendo che questi saranno i luoghi del futuro, perché se noi riusciamo a implementare le tecnologie e lo faremo anche attraverso la banda larga e quant'altro, vivere in questi posti e avere gli stessi servizi che hai magari da altre parti sarà una cosa normale ma sarà piacevole, perché qui si vive meglio che da altre parti. Ve lo dico io che per ragioni tra virgolette lavorative sono costretto o meno a frequentare per tre o quattro giorni un'altra città, Roma, nella fattispecie e io non vedo l'ora sempre di ritornare in questi posti, anche se a Roma avrai tutti i servizi possibili ed immaginabili, proprio perché la qualità della vita è differente, bisognerebbe ogni tanto provare a rimanere fuori e poi avere, se si ha la possibilità di tornare, tornerebbero tutti. E peraltro a rendere vivi i paesi ci pensano anche le associazioni con tutti i loro eventi, con i servizi che garantiscono alla comunità. Sì, anche loro sono incommiabili perché tra tante difficoltà normative e laccioli burocratici e quant'altro riescono a mantenere vivo il paese. Noi abbiamo il dovere di fare promozione, di portare le condizioni perché il turista venga da noi. Dopo la sua gestione, sapendo che sono cambiati i modi, insomma oggi, quando vent'anni fa, trent'anni fa, quando io andavo in piazza, la piazza era sempre piena, qualsiasi ora del giorno e della notte, perché probabilmente c'era un turismo che veniva, rimaneva qua, veneziani e trevigiani, 15 giorni e un mese, ma la loro vita era stare in piazza. Oggi il turista che ci frequenta, frequenta le montagne tutti i giorni, usa Calalzo come punto di partenza per eventuali escursioni in tutte le Dolomiti. È evidente che la sera, di giorno non restano e poi la sera sono anche stanchi e magari preferiscono salate più tranquille o divertimenti diversi, però noi siamo in grado di dare un po' tutto, abbiamo fatto immaginaria con il festival dei giochi di strada che è sempre iper frequentato. Ad agosto avremo Cadone Natura che ormai è diventato punto di riferimento del biologico e del mangiare e vivere bene e poi insieme tante altre iniziative durante tutta l'estate che insomma arricchiscono un po' il programma ma che ci consentono anche di offrire un bel paese. Chiaro che tutte queste associazioni vanno sostenute ed è quello che faremo come ogni anno insieme alle associazioni sportive a fine d'anno con un contributo che anche quest'anno sarà discretamente sostanzioso. Lei ha introdotto il tema turismo e qui ci riallacciamo all'opportunità che è data dal lago. Insomma il nostro lago è fondamentale, tra l'altro io in questi giorni che mi sono occupato parecchio anche come relatore del decreto siccità ho ricordato a tutti che in questi ultimi vent'anni siamo stati noi il campanello d'allarme sempre costante nel dire che forse mancava un po' di acqua. E poi se ne sono resi conto tutti nel momento in cui il Po era basso e noi ce ne rendevamo conto già allora quando era basso il lago dicevamo guardate che c'è qualcosa che non funziona perché l'acqua manca se da noi bisogna prelevarla con questa a metà d'agosto significa che c'è qualcosa che non funziona. Oggi se ne rendono conto tutti e si rendono conto dell'importanza dei bacini, non solo quelli montani ma anche di realizzarne tanti a valle. Tra l'altro il mio è un emendamento che consente di realizzarne per ogni ettaro oltre più di un bacino da 50 mila metri cubi per ettaro di proprietà dell'azienda e quindi consente di avere e di trattenere lì l'acqua e quindi averne meno bisogno anche dalla montagna e quindi io avevo un secondo fine anche in questo ovviamente sapevo che avrei lavorato anche per la montagna in questo caso però credo che rappresenti una grande opportunità. Abbiamo lavorato tanto con il presidente della comunità montana e con tutti i sindaci anche con Beppi Casagrande che era sindaco di Pieve fino a poco tempo fa per realizzare un pezzo di giro intorno al lago. Credo che quello sia l'obiettivo prioritario di che tutti i comuni si sono dati anche quelli che magari sono meno rivieraschi del centro Cadore. Magari Vigo, Lorenzago hanno terreno che arriva fino al lago però li lambisce. Sanno dell'importanza del trattenere qui gente e di portare qui gente a fare quello che sarebbe un giro meraviglioso. Se poi si sviluppa il turismo anche attraverso il nuovo campeggio che dovrebbe nascere di là del lago in località Colonia Valesella è evidente che quello diventa un altro volano. Quindi le risorse del bando, quello per i comuni turistici, se riuscissimo a metterle tutti assieme e completare quell'opera credo che regaleremo alle future generazioni anche un motivo in più per vendere il nostro territorio. Le faccio una domanda perché posso farla solo, cioè principalmente a lei. Si è parlato non molto tempo fa del ritorno del treno Roma-Calazzo, Calazzo-Roma. Insomma se ci fosse, come potete immaginare, se ci fosse lo prenderei subito anche perché il treno Roma come era strutturato prima partiva la sera e arrivava la mattina. Per me sarebbe l'ideale. Guadagnerei un giorno di lavoro sul territorio perché sono trasportamenti vari poi durante la notte, la notte normalmente o si ama o si dorme, diceva la mia collega Ciotti e quindi non si dovrebbe lavorare. Quindi potremmo approfittare proprio per fare. Io non lo so se è fattibile. Chiaramente anche questo è all'interno di quelle, posto che l'alta velocità per le Olimpiadi arriverà fino a Ponte nelle Alpi e quindi potremmo avere una grande possibilità. Perché no? Se ci fosse anche solo di intravedere la possibilità del sindaco di Calazzo attuale, ma il senatore De Carlo in primi sarebbero i primi fautori di questo. Chiaro che c'è un intreccio differente oggi con l'orario cadenzato che prevede determinati incroci e che non è e non tante poi diciamo così ci sono le famose rotture di carico per usare un eufemismo, ma sono rotture di altro tipo che evidente ci mettono un po' in difficoltà però insomma se ci fosse veramente anche in ottica Olimpiadi un aumento esponenziale dei turisti con una mobilità sicuramente diversa io ne sarei assolutamente uno dei peroratori. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti. E quindi ci vediamo al prossimo appuntamento con la voce delle istituzioni.